cari imprenditori world un grande saluto a tutti con l'apertura della world academy iniziamo un percorso sul metodo di lavoro e quindi sul sistema oggi la rete volte si sviluppa in tanti paesi ed è necessario uno standard di lavoro unico un messaggio unico ed una corretta informazione in tutti i paesi naturalmente questa è solo una prima parte con le regole di base del nostro lavoro una guida molto semplice che si può consultare in ogni momento ricordiamo che il lavoro più importante è sempre quello che voi fate tutti i giorni sul terreno insieme a vostri sponsor insieme alle vostre upline insieme ai vostri leaders siamo solo all'inizio del nostro cammino e sono sicuro che raggiungeremo grandi obiettivi e grandi risultati col lavoro con la forza e la professionalità che avete sempre avuto io vi saluto vi auguro buon lavoro e vi do il benvenuto nella world academy